Cari amici di Cibo ed Intorni ben ritrovati, ormai manca poco a Natale, noi oggi vogliamo parlarvi di una azienda che è spessissimo presente sulle tavole non solo dei campani ma degli italiani e scopriremo forse anche di quelli che ci sono oltre i confini italiani. Lei è Milena Pepe, l'azienda di cui voglio raccontarvi, anzi voglio che lei vi racconti, è la tenuta Cavalier Pepe un'azienda vinicola che si trova in Irpinia e la cui storia parte da dove Milena? Inizia a Luogo Sano, la famiglia Pepe è di Luogo Sano e papà ha investito vicino ai fratelli migliorando, ristrutturando, allargando il vigneto di famiglia e io poi sono arrivata nel 2005, ho cominciato a vinificare le uve della famiglia Pepe Queste uve sono strettamente irpine, insomma la vostra tradizione è radicata in questo territorio secondo te questo è uno dei motivi del vostro grande successo in Italia e nel mondo? Sicuramente vogliamo fare qualità nella tipicità, abbiamo grandi vitigni e un grande territorio abbiamo persone che hanno studiato viticoltura e enologia, che seguono l'agronomia, le vigne e la cantina dunque sì, sicuramente la qualità è legata fortemente all'identità di ogni prodotto legato a questo territorio Però tu hai delle origini, si sente dal tuo accento che non sono irpine Dopo 19 vendemmie, l'aeremoche non si toglie Dunque sì, sono metà belga, metà italiana Mamma è belga e ho vissuto metà della mia vita in Belgio Poi ho studiato viticoltura e enologia in Francia Sei arrivata qui per fare quest'ottimo lavoro perché appunto la tenuta Cavalier Pepe sta avendo anche dei riscontri a livello mondiale molto importanti Dove esportate? Allora la tenuta esporta sicuramente ai Stati Uniti a Malta che è un ottimo mercato, l'Ingliterra, Belgio, Olanda in Cina anche abbiamo Mamma mia, quindi insomma siete davvero un'azienda internazionale Ma questa è la storia Adesso invece vi raccontiamo del presente e ci spostiamo in bottaia Milena, allora il presente, qui siamo nella bottaia? Sì, no, qua siamo nella sala di fermentazione Nella sala di fermentazione, quindi facciamo così Raccontiamo agli amici di Cibo e dintorni come nasce una bottiglia di vino della tenuta Cavalier Pepe Allora, principalmente la vendemmia è manuale Dunque le uve arrivano fuori sul piazzale e per l'uva alianico, il rosso, diraspiamo Andiamo in fermentazione nelle vasche in cemento per l'alianico, il taurasi, il campi taurasini Le fermentazioni sono controllate in queste vasche dove circola l'acqua fredda e la fermentazione è la trasformazione dello zucchero in alcol Dopodiché, che cosa succede? Dopo dipende la varietà Il vino sarà trasvasato in una vasca in cemento o in una vasca o in barrique o in botte grande E queste le possiamo vedere, forse la barrique la possiamo vedere Quella è la vera bottaglia, allora? Sì, esatto Bene, allora andiamo Questa finalmente è la bottaia Però prima di capire cosa c'è dentro alle botti, ai vari recipienti raccontaci la differenza perché io l'ho scoperta 5 secondi fa Cos'è una barrique, cosa è una botte e queste altre cosa sono? Allora, siamo nella zona dell'affinamento L'alianico ha bisogno di tempo per affinarsi e stabilizzarsi Dunque abbiamo dei recipienti porosi Significa che l'ossigeno entra nella barrique Sono quelle più piccole Barrique di 225 o 228 litri E le botte grande, in questo caso le mie hanno 3000 litri E poi ci sono le anfore che anche loro sono porose Le anfore da 7 quintali e mezzo, 750 litri Queste anfore servono per un vino che mi raccontavi essere molto particolare Vi sta dando anche grandi soddisfazioni Appio Sì, allora Appio è nato per la via Appia E' il mio papà che ci teneva tanto Abbiamo, diciamo, la vinificazione di tutte le uve di alianico Delle nostre più vecchie vigne D'allevamento a starsete Dunque queste vigne Significa questa parola? Ebbene, il contadino fissava la vigna vicino a un albero da frutto o un oliveto Erano piantati 4-5 metri per 4-5 metri per lo spazio dell'albero E erano portati in alto con quattro bracci Sotto il contadino aveva l'orto E sul stesso apprezzamento faceva la frutta, il vino, l'olio e la verdura E voi state portando avanti questo progetto di grandissima tradizione, di grandissima storia? Sì, è importante per noi Praticamente le uve di queste vigne vecchie Perché continuiamo a produrre su queste vigne vecchie? Perché noi prendiamo i loro germogli E innestiamo le giovane Ecco come per me facciamo tipicità Prendiamo il DNA di una vigna completamente adattata E resistente Perché sta qua da 50, 60, 70 Abbiamo qualche centina di anni per qualche piante E queste piante diciamo noi riusciamo a prendere il loro DNA Piantando poi il loro germoglio sulle nuove vigne E' il momento del brindisi finale per fare gli auguri agli nostri amici Oh sì E per questo saluto finale per gli auguri di Natale Milena Pepe ci ha portato in un posto straordinario Dove siamo? Siamo nel Cavo Dove abbiamo il Taurasi Opera Mia E il Taurasi Riserva La loggia del Cavaliere Delle Anate dal 2005 ad oggi Un vino insomma che va bevuto in occasioni speciali Come quello del Natale ad esempio O di Capodanno Io ti ringrazio molto per averci raccontato Questa bellissima storia Per averci parlato dei vostri vini E facciamo un cin Auguri a tutti Auguri, grazie Grazie